Il pubblico e il privato possono operare su due, ovviamente il pubblico a livello gratuito perché fa un discorso sociale, il privato diventa business. Però secondo me la prima pedina che si sposta per far partire questa visita d'impresa fa parte delle imprese stesse, cioè che devono aprirsi al pubblico. Allora io capisco che la piccola, anche nella mia esperienza, vedo che più la realtà è piccola e più c'è un costo. Cioè il costo è simbolico, ma io vedo alla tessitura rivese dove andiamo in un'azienda a vedere tutto come si fanno i tessuti eccetera, lì il costo è simbolico, costa due euro a persona. Ecco, ma giusto per un'azienda come la Ferrino, che siamo sempre nell'ambito del tessile, fa le tende e tutto, quando gli ho chiesto se per i gruppi aveva intenzione di mettere un costo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ma neanche per idea, tu credi che a me se uno mi paga tre euro il biglietto mi serva qualcosa, mi cambia la vita, io ho bisogno di lanciare il mio marchio eccetera, farmi conoscere. Ognuno ha un obiettivo, io capisco che la parte dell'artigianato, così c'è anche bisogno di un rimborso spese, ma anche soltanto per intagliare il legno, sinceramente io quel legno poi, quindi mi copro quelle spese, con questo se poi ho tutti degli oggetti da vendere eccetera. Sì, quindi così, questo è un po', sì, sì, è così, ma si è costruito tutto bene, la gente è spesa. Sì, 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 anche, sì, sì, si fa così, poi, sì, 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 io da un punto di vista dell'azienda, poi, adesso non so neanche come farvi vedere, ho portato del materialino anche di come fanno aziende più piccole, ad esempio sempre per la mia piccola vacanza in Alta Valpusteria, sono state in un caseificio lì, che si chiama Mondolatte e hanno uno stabilimento e hanno, insieme alla vendita normale del latte, hanno montato tutta la visita d'impresa e quindi sono partiti dalla realizzazione di una brochure, forse sono tappe normali, appunto con la presentazione, un attimo dei prodotti, di che cosa si fa, vedete, adesso lo faccio girare, ma c'è scritto, non so, dal latte al formaggio, un'esperienza in più, quindi ti danno già la possibilità di vedere tutti i vari processi produttivi, ci sono gli orari, l'orario di apertura dell'azienda e poi ci sono le possibilità di fare le visite, quindi uno va lì e gli danno un foglietto e hanno anche degli orari di partenza delle visite e delle lingue, io adesso non lo so, lo faccio girare, o lo vediamo, ecco, non abbiamo una, quindi questi sono i materiali che produce l'azienda e poi certo all'interno è carino fare un piccolo percorso, anche qui se andiamo avanti con le slide, ecco ci sono delle foto, avanti, 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 ok, ancora avanti, aspetta, eccolo, vabbè, questo è l'esempio del mondo, è una stupidaggine, però lo trovo carino, vi faccio vedere la brochure, ad ogni modo hanno fatto tutto un percorso, sempre per giocare su questo aspetto anche ludico della cosa, hanno segnato il percorso e sì, c'è la mucca che sale alle scale, follow me perché devi spingere sta posta, cioè poi diventa un'attività nell'azienda, cioè bisogna partire, adesso poi uno l'adatta, però sono dettagli che trovo carini, poi vabbè, hanno messo tutte delle informazioni perché secondo me è anche utile aprirsi un po' due vie, c'è la visita accompagnata con l'accompagnatore che ti spiega e tutto, e quindi vedi nel dettaglio la produzione, è molto carino, altrimenti c'è un percorso di visita che uno può farsi da solo, e allora sinceramente ho visto questo, c'è un camion, ma poi c'è un pezzo di camion e il resto è tutto fotografico e ci sono i dati, la latteria tre cime, c'è un pochino la storia, alcuni dati, ecco quindi è evidente che c'è uno sforzo economico, un impegno di tempo per far partire l'iniziativa, ma è una cosa che si conquista anche passettino dopo passettino, uno inizia già soltanto col cartello, visita il nostro laboratorio sulla strada e poi accoglie i primi turisti e dice, ah qua, mannaggia, ho visto che nel mio discorso mancava questo, potrei aggiungere questo oggetto così loro lo vedono, poi pensi alla segnalettica, è una cosa che secondo me si può fare gradualmente, ecco, quindi questi sono gli aspetti un pochino simpatici, ma ne ho diverse se volete, sì uno lo tengo poi qua, casomai poi è materiale, lo fotocopiamo, volete farlo girare, l'avete già visto? Scusate, non so se sono, e questi anche sono gli orari di visita forse, si orari fissi delle visite guidate per i mesi di agosto, settembre, li fanno pienone di turisti e qui ci passano sia i gruppi che il singolo turista e poi altre, visto che siamo sull'esperienza nell'azienda e fare sempre un'esperienza un po' ludica e costruire anche delle cose che la gente può maneggiare, eccetera, ci sono due, no, prima, credo due, adesso, ancora, ecco, qui sempre alle tre cime, adesso vi faccio vedere anche il mio bambino, ma così me lo vedo, queste sono delle forme di formaggio fatte in gomma piuma e sono dei cuscinoni, però poi era il formaggio dobiaco, quindi l'hanno messo appunto vicino ai frigoriferi dove conservano poi il formaggio, però giocavamo tutti con questo e sinceramente a tutti è venuto molto spontaneo prendere una forma e farsi la fotografia e questo ricordo sinceramente come lo presenta a voi e se andate a Dobbiaco forse andrete anche voi alla cosa tre cime e anche in passaparola, tutto fa, ecco, questo è più da un punto di vista dell'azienda, ecco, perché io ne ho visitate tante e ammetto che adesso se avessi la mia impresa e dovessi organizzare forse un percorso di visita avrei una certa facilità, ma forse con l'esperienza di altre persone, così ci sono ottimi consulenti anche che possono fare questo lavoro per le aziende, ci sono tante cose, ecco, quindi questo è un po' tutto. sì, poi c'è tutta, ma poi lo vediamo, ecco, ci sono tanti modi anche per l'azienda per richiamare un po' l'attenzione dei flussi turistici, adesso avevo, non c'è, ecco, questa è una stupidaggine, vabbè, questa è un'azienda che fa yogurt a chilometri zero a Torino, vicino a Nel Cuneese, e così uno compra il suo yogurt e poi dentro c'è scritto, ci trova questo messaggio, lo trova il cliente, cioè il normale, e c'è scritto vieni a vedere dove facciamo il nostro yogurt, cioè è una, ma sta entrando sempre di più nella mentalità della gente, ma forse si vede anche questa, ma anche dai gelatai, non so se vi è capitato, ma vedi proprio c'è un vetro e poi c'è il laboratorio dietro, è il segno di trasparenza, di far vedere quello che uno vuole fare, sì, 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 quindi io credo che proprio all'azienda puoi fare vedere come si fa anche il laboratorio di sartorie, sono, cosa sono, sono abiti da sposa? No, sì, ecco, allora, è meraviglioso, ma sentiti sposa per un giorno e ti provi il vestito e ti fa, intanto lei fa vedere come si fanno le cose, possiamo, deve essere un'esperienza divertente, tutti pensano al grande giorno, all'abito bello, manca avere soltanto l'abito di prova, ci si trova un sistema simpatico, ecco, sì, di sera, oppure sì, il fatto di aprirsi o di mettere, io penso già soltanto un cartello fuori, lo dico sempre, ero in Grecia, non so, non mi ricordo più l'isola, comunque c'è una signora che ha scritto, visita la nostra cucina, cioè ho salito quattro scalette, forse incuriosita, io mi sono seduta nella sua cucina, ho preso il caffè, gli ho lasciato anche i soldi, perché poi mi sono andata, cioè qua veramente fantasia, ragazzi, spacchiamo il mondo, non ci vuole molto, sì, cioè non avere timore di, sì, poi io capisco che in un'azienda grandissima io non posso far vedere all'Oreal che faccio i test sugli animali, cioè non è, no, io a parte che non lo vedo, ma, quindi faccio vedere quello che mi serve far vedere per vendere meglio il mio prodotto, per invece affermarmi sul territorio, ma siamo noi che abbiamo il timone in mano, cioè noi, io penso proprio all'azienda piuttosto, ha più difficoltà l'accompagnatore che deve dire cosa deve dire, non deve dire, ma l'azienda fa quello che desidera e fare vedere, è un'esperienza diversa e adesso siamo in questo momento dove la gente cerca qualcosa di non convenzionale, di non banale, quindi credo che questa esperienza sia, sia valida e applicabile in tutti, in tutti i modi. se non mi ricordo neanche più dove eravamo, questo qui anche è un'esperienza, sempre sui latticini, però qui hanno fatto una cartolina che uno trova, vieni a scoprire il mio mondo su, e vabbè c'è tutta la promozione su internet eccetera, poi ti aspetto in alto Adige, ci sono proprio delle vogliate, così, se volete vedere, ci sono, come? ah sì, no, forse ne avevamo ancora uno, ecco, sempre sull'accompagnatore che come intermediario, ecco, ritengo che, oppure il tour operator, se affida la guida del gruppo all'accompagnatore, è bene fornirgli tutte le informazioni necessarie, ma è un pochino la carta di identità del gruppo, vabbè, oltre a sapere quanti sono, sapere appunto se sono anziani, se sono giovani, se sono degli studenti e quindi adatto il discorso, ma lo sapete benissimo, agli utenti, capire anche la nazionalità, sinceramente portare dei francesi a vedere un'azienda che fa formaggio, bisogna stare un attimo attenti, perché poi ognuno difende bene il suo prodotto, quindi ecco, cerchiamo di capire se appunto c'è un pubblico di bambini o se ci sono delle esigenze particolari, ecco, credo che, se non lo fa un ente come il mio, lo dice all'accompagnatore, che sia almeno l'accompagnatore a chiederlo, anche per facilitarsi il lavoro. Un costo, secondo me, da prevedere su tutta l'iniziativa, adesso poi dipende dal punto di vista, è l'assicurazione. L'assicurazione, generalmente il tour operator così è coperto da una sua assicurazione quando porta in giro i suoi turisti e visitatori. Nel caso di un ente come Turismo Torino, io comunque offro, noi siamo coperti da un'assicurazione e ne avevo fatta una anche specifica proprio per questa iniziativa, ma copriva soltanto i partecipanti durante il trasferimento, quindi dal punto informativo, dall'ufficio del turismo, il tragitto in Pullman fino all'azienda e il ritorno. Una volta entrato in azienda, perché se io ho qualcuno che cade nel percorso a piedi dall'ufficio del turismo al Pullman, sono io responsabile. C'è una signora caduta in un tombino, mannaggia lei, cioè si è inciampata, oppure riusciamo comunque a giustificarci, c'è l'assicurazione del Pullman perché lui è assicurato, oppure anche io sono comunque assicurata durante il trasferimento, però se in quel percorso a piedi o uno si fa male fuori dall'ufficio del turismo, io sono coperta. È una voce che uno tende sempre un po' a dare per scontato o si dimentica, invece è un costo comunque importante. Anche perché poi questo era il nostro assicuratore che mi metteva sempre la pulce, però c'è anche gente che ci mangia sopra queste cose. nel senso che... il figlio di un amico che è caduto a casa e lo andava con l'altro amico... Ah no... Sì... No... No, che omicizia... Sì... 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 No, no... C'è gente così... Infatti è sempre importante anche segnalare chi sale sul Pullman, perché se non risulta... Sì... No, chi sale è avere l'elenco, perché quella gente lì che sale sul Pullman è assicurata. Quello che invece decide, nel mio caso dei turisti individuali, il caso della Caffarel, che va con i suoi mezzi alla Caffarel e poi raggiunge il mio gruppo, io voglio che quello sia ben segnalato, perché non è coperto da assicurazione. Se c'è un incidente in autostrada non è mia responsabilità. Quindi bisogna anche un attimo ragionare a fondo e tutelarsi dietro queste cose. Allora, ecco qui che iniziamo a dare valore all'iniziativa e ho fatto la lista della spesa. Quindi abbiamo il costo del mezzo di trasporto, dell'accompagnatore. L'accompagnatore e le nostre guide qui presenti lo sanno meglio, ci sono delle tariffe... Almeno noi abbiamo delle tariffe imposte. Ah, qua oscillano. Allora, comunque quello lo si vede. Io ammetto che per un prodotto continuativo come il nostro di queste visite rivolte individuali ho proposto una tariffa forfettaria, ecco. E comunque non ho fatto una tariffa vuoto per pieno, come si dice, nel senso che se la visita è annullata comunque non gliela pago tutta, ne ne paghiamo comunque una parte. Quindi sono tutte cose poi anche da decidere con l'accompagnatore. La voce dell'assicurazione, il noleggio delle radio guide, perché come dicevo prima è importante garantire un servizio buono. Quindi è vero che è un costo in più che possiamo anche imputare al gruppo, ecco. Però è bene segnalare che la produzione è rumorosa e quindi il gruppo non potrebbe ha delle difficoltà forse di ascolto. E nel mio caso ho delle radio guide che offro, che uso nelle visite. Qualora appunto il gruppo fosse troppo numeroso e dovesse anche noleggiarli è un costo che io devo comunque dare al gruppo. In più ci sono, poi c'è tutto anche il discorso delle sponsorizzazioni, si possono, adesso che torniamo un pochino all'epoca del baratto, possiamo anche aiutarci tra aziende, dare visibilità sul materiale. Ci sono tanti modi comunque per cercare di abbattere questi costi. Ecco, adesso non è il caso di aprire discorsi paralleli, ma comunque ammetto che faccio anche questo. E poi c'è la visita d'impresa, che nel caso delle aziende che aderiscono a questo prodotto per visite per individuali, ecco, visto che li portiamo pullman di turisti, non mi fanno pagare la visita. Quindi a me non costa la visita in azienda. Anche perché gli diamo pura visibilità sul materiale, li portiamo la gente, direi che va bene così. Comunque, se uno deve costruirsi un pochino il suo prodottino, quella è una voce di spesa da valutare, ecco. Siete stravolti? No? Va bene? Ok. Allora, adesso dobbiamo lanciare e comunicare questa nostra iniziativa. I metodi che usiamo sono, allora, le abbiamo già visti, e realizziamo una brochure, una brochure promozionale, ecco. Questa viene, bisogna capire, adesso parlo nel mio caso specifico, questa è una brochure trilingue, mi è sembrato più facile, parla in italiano, francese e in inglese, che contiene tutte un pochino le informazioni utili a me e al turista. e sono quelle famose informazioni che nel mio incontro con l'azienda ho chiesto. Infatti, se ve ne distribuisco una testa, se volete lo vediamo insieme. Questo, tra l'altro, è un invito a venire a Torino e a partecipare alle visite, perché... Allora, voilà... Facciamo corso... Ne manca ancora una? A posto? Sono tutte doppie. Uno... Ah, grazie. Perfetto. Luca la conosce a memoria? Ok. Ah, adesso lo vediamo. Che è una visita a piedi. Allora, così mi dite anche voi tutto ciò che manca, tutto ciò che... Perché ha dei difetti questa brochure, però siamo in evoluzione. Quindi... Vabbè, questa è la brochure trilingue appunto della nostra iniziativa. Come vi dicevo, ci sono delle icone che indicano appunto i dati importanti che interessano le aziende. Vabbè, oltre la data della visita, ma questo non vi interessa, abbiamo, vabbè, la valigia che indica l'orario di partenza della visita. Il... Ho trovato utile inserire la durata della visita. Ah, è qua. Siamo... scusate. Sì. Qua, l'iconcina. Che è... Così vediamo un attimo di vedere i dati che sono, ecco, secondo me utili. La durata della visita. È fondamentale sapere quanto tempo devo impegnare per fare, no? Per un'iniziativa. E credo che anche per l'azienda, tararsi e dire il mio gruppo fa una visita di un'ora, dopo due ore posso fare quella determinata attività sia interessante. Quindi prendere sempre sempre i tempi. Ecco, nel nostro caso specifico vedete che andiamo tra le tre e le sei ore. Include, in questo caso, include il trasporto. Quindi abbiamo la partenza sempre dall'ufficio del turismo, dell'ufficio del turismo all'azienda e rientro. Poi avete delle aziende, dove tra l'altro contrassegnate con una stella, dove la durata è di circa sei ore. Qui ho voluto quest'anno inserire delle aziende che si trovano ben oltre i 40 chilometri da Torino. Quindi è già un impegno. Però perché la stampa? La stampa? No, due ore e trenta. Otto ore sono i bambini, otto anni. Adesso vediamo se è saltato l'occhio. Quindi sono aziende che si trovano un pochino più lontane. Quindi in questo caso ho pensato di aggiungere anche una tappa in un ristorante per i nostri turisti, per cercare di alleviarli. Ecco perché la visita è un pochino più lunga. Poi dopo la durata c'è questa icona di un adulto con bambino per capire se nell'azienda può entrare il bambino. E se sì, da che età? Ecco, come vedete alla Talessia Lenia Space i bambini non entrano. Quindi mi sono tutta tolta il target delle famiglie. Quindi lì non possono entrare. Alla Raspini Prosciutti Rosa neanche. Alla stampa entrano i bambini e sono scelte aziendali. Non vogliono avere complicazioni o preoccupazioni o trovano che... La famiglia è ospedita. Ecco, sì. Però è un dato fondamentale da sapere. Oppure l'azienda deve farsi un attimo una... Eh sì. Sì. Oppure... Sì. Oppure, lo dico, anche una delle nostre visite più belle, più ambite, eccetera, che è questa visita alle pastiglie leone. Io non so se le mangiate voi le pasticchette. Che tra l'altro è l'unica azienda ancora in Europa, forse con la Fisherman, a fare le pastiglie. Perché non? Ehm... Ehm... Ad ogni modo loro per un problema proprio di sicurezza. Non vogliono i bambini prendono soltanto... Li prendo mi pare dai... Eh... Non li vogliono. Comunque vogliono i maggiorenni. Anche perché è un percorso di visita meraviglioso, ma sei tra... tra lo zucchero bollente, incandescente, vedi questi pentoloni e queste cose. Quindi non vogliono... Il bambino in una fabbrica di caramelle ci va a nozze. Eh... però, appunto, è un rischio. Quindi loro si tutelano in questo modo. Consapevoli che si limitano i... Limitano i visitatori, ma è così. Quindi questo è un dato interessante. Poi, vabbè, questo fu la... La shopper, la bag che vedete, invece, li concina dopo. Questa indica, invece, se si possono fare acquisti in azienda. Eh... io vedo... Il bambino vuol dire che non lo vuole. Esatto. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma oppure nei birrifici a Torino... I primi birrifici in Italia sono nati a Torino per la qualità dell'acqua, ecco. Sì. E loro sono aperti a tutto. In fondo, vabbè, un birrificio ha una struttura produttiva più... più semplice, eccetera. E poi, sovente, c'è anche tutto l'angolo ristorazione accanto, perché sono dei birrifici con birreria, ecco. Uno degusta. E quindi accettano i bambini. È molto facile entrare. Eh... sì, sì. No, ci vuole sempre un po' di... Sì, ecco. Anche lì uno beve e nel famoso incontro che fai con l'azienda, allora in quei casi suggerisci anche di mangiare, di offrire un grissino o qualcosa, perché altrimenti i nostri ospiti vanno via ubriachi. Eh... No, ma bisogna... È come quando uno fa un evento, credo che... Lo sappiate bene. Ecco, bisogna pensare a tutto e tutt'al più fare delle domande, delle richieste che uno risulta quasi stupido, perché dico delle banalità. Però, ecco, curiamo i dettagli e stiamo attenti a tutto. Sì, perché andare a aversi, a fare una degustazione di vino e non avere neanche una frisa o un tarallino, cioè andiamo tutti al creatore dopo, ecco. Quindi, ecco. Allora, poi la bag, l'icona della borsa, quindi segnala le aziende che hanno poi un... uno spaccio aziendale, piuttosto che un... Sì, la possibilità di fare shopping in azienda. Lo dico sempre, io vedo una forte coesione, ecco, tra il turismo industriale e lo shopping. Cioè, vanno insieme. Ecco, voi potete anche dire a un tour operator, se dovete proporre qualcosa, appunto, di andare a vedere l'azienda che produce olio, perché lì si compra. Ecco. Cioè, quello è comunque un altro modo per... Se non è la visita d'impresa, perché dicono, ah, me non... Si compra e poi però gli fate tutto uno spapocchione prima di come si produce. Quindi... E la degustazione e tutto. Quindi, ecco, queste sono... E poi, allora, le lingue poi che si parlano, ovvero, queste sono le lingue parlate da chi cura la visita in azienda. Quindi, come vedete, i raspini, i prosciutti rosa, il Luciano Gennero che cura la visita, non parla altre lingue se non italiano. E lui? Sì. Sì. Perché anche tutto dipende dalle forze che ha, cioè, da chi cura le visite. La lampadina l'abbiamo indicato come le note generali generiche. Nelle note, allora, abbiamo questo visto che è accessibile. Quindi i disabili, coloro che appunto hanno delle disabilità, in questo caso motorie, perché è quello che ci interessa, vedete che alla stampa possono entrare, alla centrale del latte entrano, al birrificio Torino, alla Martini Rossi. Quindi hanno tutte le... è un'azienda fruibile. Sì. 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 Non traduce in lingua, sì, fa delle traduzioni... No, no. Qui è soltanto quello che può fare l'azienda. Sì. 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 E poi, ecco, c'è il problema, questa domanda delle lingue, se noi abbiamo in questo caso, perché può essere più nel nostro caso che nel caso di un gruppo precostituito dove tutti parlano la stessa lingua, io nel mio caso posso avere degli italiani, dei francesi e degli inglesi, tutti insieme. Quindi, qual è la lingua che si parlerà in questa visita? Vince, appunto, la lingua della maggioranza dei partecipanti. Se sono tutti... se la maggioranza sono italiani, facciamo la visita in italiano e poi l'accompagnatore sta vicino al francese e all'inglese e cerca di aiutarli. Come dicevo, sono visite dove vedi, dove produci, dove tocchi, quindi non è che c'è bisogno di un supporto, ma non è così. Quindi questa è un pochino la scelta che facciamo. Se abbiamo maggioranza francesi e tre italiani, mi dispiace, se l'azienda lo consente, la visita sarà in francese. Special tour è quello che dicevo con la stellina e sono quelle visite nell'azienda oltre i 40 km da Torino, quindi il percorso è molto lungo. La visita è lunga e abbiamo inserito un ristorante, un ristorante che non ho scelto a caso, ma che fa parte di un club di prodotto che abbiamo, ecco che su cui lavoriamo, che è in collaborazione con i sapori torinesi, quindi sono ristoranti che offrono dei menu a base di piatti tipici e di ricette tipiche. Forse sinceramente anche qua c'è qualcosa del genere, non lo so, comunque ci sono e quindi questa è la scelta che abbiamo fatto, anche per scremarle, perché l'ufficio del turismo, come sapete, almeno io non posso suggerire nello specifico un ristorante. Noi, anche al turista che mi chiede dove andare a mangiare, gli fornisco tutto un elenco di ristoranti. Io faccio solo da tramite, da promotore, ma non posso promuovere uno nello specifico. Il tour operator si sceglie tutto quel che vuole, anzi chiama l'ufficio del turismo e gli dice mi dia l'elenco dei ristoranti e poi se li sceglie. Quindi questi tour, gli special tour, sono carini e hanno successo. La gita un pochino, io adesso credo sia un'impressione dialettale, comunque in piemontese io dico sempre dei ciapaturist, sono proprio il viaggio delle pentole per prendere turisti, perché ho anche aggiunto il ristorante, direi che sono quelle cose così e ha un certo successo. Ecco, quindi queste sono le iconcine. Poi, lo spazio quel che è, importante, ho messo, si trova poco, se uno mi chiede ma scusate come mi prenoto, qui avete, vabbè sul calendario avete il nostro sito internet e quando aprite la brochure c'è una spiegazione, lo vedete qua, dove ci sono questi puntatori, sulle visite. Allora, abbiamo usato questo slogan, appunto, mettiti comodo, vedete se capite il nostro servizio, con il nostro autobus ti portiamo a scoprire in esclusiva tutti i segreti delle migliori produzioni torinesi. Ecco qui, la durata del tour dalle 2 alle 4 ore, a seconda dell'azienda, poi a parte gli special tour, il prezzo a partire da 10 euro, ecco che è indicato, i bambini sotto i 12 anni pagano 5 euro, c'è una riduzione del 50% e poi è gratis con la Torino più Piemonte Card. La Torino più Piemonte Card è un pass magico che abbiamo creato ed è un prodotto di punta, è un pass che può avere la durata di 2, 3, 5 giorni a seconda della durata del soggiorno del turista e può entrare per un costo poi di 28 euro, varia adesso ogni, lo cerchiamo meglio sul sito perché non me lo ricordo, può entrare in più di 180 musei di Torino e di tutta la provincia, forse tu lo conosci, e chi è stato a Torino, ci sono tutte le residenze reali incluse, i servizi turistici sono inclusi, delle riduzioni sul bus turistico, essendo un prodotto per turista e chi compra, mi è sembrato giusto, chi ha la Torino più Montecardo come entra gratuitamente nei musei può entrare gratuitamente e partecipare ai nostri tour gratuitamente. Poi noi, nel caso delle visite, io ho una perdita e basta, nel caso dei musei noi rimborsiamo, abbiamo una convenzione e rimborsiamo gli ingressi. Ma non c'è? E' questo? E' che noi siamo la prima città taggata a colori, se il progetto è partito da noi, quindi se qualcuno fotografa qui, se ce l'hai qua, e vai direttamente sul video che abbiamo visto. No, questo è, noi siamo a colori, questo è ancora più innovativo perché c'è il nostro logo, e così, sì, quindi c'è. No, così, noi siamo stati la prima città taggata a colori, e quindi sì, c'è tutto, e ce l'abbiamo, vabbè, una banalità, l'abbiamo anche su tutti in corrispondenza dei vari monumenti, quindi tu vai di fronte al Palazzo Reale, clicchi la foto sul tag, e boom, ti si apre tutta la storia del palazzo, eccetera, abbiamo fatto queste cose qua. E poi, quindi questa è l'iniziativa tre lingue. Poi, fondamentale, io l'ho sempre, non ho mai capito l'importanza di questa cosa, forse sto maturando anch'io, fondamentale mettere la cartina, cioè capire dove siamo, dove sono le visite, adesso nel circuito delle aziende, come vedete, cioè io l'ho trovata una cosa inutile, dire ma in fondo le porto col pullman, il turista non ha bisogno di sapere dove va. Invece nella scelta anche delle visite, dove andare, o se va, è bene orientarli. Quindi, purtroppo, le aziende sono tante, la cartina è piccola, lo spazio è anche poco, però abbiamo, trovate la mappa, quindi dove sono dislocate tutte le aziende, vedete la distanza anche rispetto al centro, sono dislocate dal sud, dal nord, sono un po' dappertutto. Abbiamo fatto poi un focus che trovo molto utile, questo focus rosso, forse lo vedete, sul centro di Torino, quindi sapete che nell'area vicino a Torino, al centro, ci sono due, cinque, non so, più di dieci, più di dieci aziende, quindi anche il trasferimento in pullman è più rapido e questa cartina è utile sia al turista singolo che anche al tour operator, sinceramente, che comunque usa la stessa brochure, la prende e può vedere dove è. Sì, allora, come dicevo, premetto che è un prodotto di nicchia. Abbiamo fatto uno studio sul partecipante tipo, abbiamo fatto prima un'indagine condotta da un professore meraviglioso che qualcuno ha conosciuto e che non c'è più, ma comunque cerchiamo di seguire la sua scia, che era stata appunto al convegno iniziale. Allora, in modo, condotta dal professor Savoia, avevamo fatto un attimo il profilo del turista della visita di impresa. e gente, uno che ha una certa preparazione culturale e formato, molti sono comunque laureati con un interesse a queste cose, quindi è un turista di un certo tipo. Sono anche molto i bambini interessati comunque a questo genere di cose e le famiglie con bambini. L'età varia appunto dai, generalmente a chi interessa queste cose, sono giovani. Oppure, nel caso di Torino, ecco, il nostro turista, ecco, se passo invece concretamente a chi frequenta le nostre visite, sono molti anche locali, lo dichiaro, lo confesso, anche se siamo già, sta diventando un prodotto turistico. Comunque, ad ogni modo, è frequentato, nel nostro caso, soprattutto da locali e da persone che hanno del tempo. Perché, come vi dicevo, sì, sono anche, sì, sono molti, anche pensionati, o gente che non lavora nei giorni di effettuazione delle visite. Allora, purtroppo il venerdì mattina, ad esempio, la sottoscritta vorrebbe andare in azienda, ma non può farlo perché lavoro. Ecco, quindi avere degli appuntamenti il venerdì mattina, il venerdì pomeriggio, lunedì mattina, per chi lavora è impossibile entrare in azienda. Ma ci sono delle visite che abbiamo messo a calendario e dell'icona che non abbiamo visto, ad esempio quelli con la luna, perché facciamo delle visite in notturna, come ad esempio alla sede della stampa. E lì, allora, abbiamo un target meraviglioso, giovane, interessato, colto, da famiglie con bambini, ecco, quindi io credo sia quello il target di, un pochino di riferimento. Nazionalità sono molte, sono, vabbè, molti italiani, come ti dicevo, sono molti locali anche, ma io credo, stranieri ci sono, stanno arrivando, da due anni ci sono, anche con questo incentivo della Torino-Piemonte-Card, che vi ho appena illustrato, è un modo per avere dei turisti. Piace molto, vabbè, ai francesi, stamattina avevamo una visita alla Thalessa Legna Space, avevamo un gruppo di sei belgi, quindi così, canadesi, americani, chi arriva a Torino, sì, 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 è un'esperienza, sì che piace, sì, agli stranieri piace andare in un laboratorio di cioccolato, l'unica cosa, ci devono essere una serie di coincidenze soltanto, devono arrivare a Torino il venerdì, devono trovare una visita, se vengono a scoprire dell'iniziativa sul territorio, quando sono in loco, devono avere la possibilità di salire sul pulmone e andare, se loro arrivano anche un'ora dopo, non è la visita già partita, ecco, è tutto un po' una serie di coincidenze. se le aziende fossero aperte il sabato e la domenica, secondo me ci sarebbe pubblico, comunque l'iniziativa funziona bene, come gruppi precostituiti, perché abbiamo, come vi dicevo, questo servizio anche dedicato ai gruppi, sono tantissime le richieste, sono molti francesi, ma un po' dipende dal mercato di riferimento, per noi la Francia è vicina e sono molti, ecco, francesi, inglesi, di svizzeri anche, quindi dipende, però io credo che bisogna un attimo fare uno studio sul proprio territorio, sì, sì, sì. È una clientela selezionata, però appunto se l'iniziativa è divertente, ludica, e poi se è facile accedere all'azienda, ai laboratori, io qui, ecco, se dovessi fare un'analisi del territorio, penso che siano soprattutto i piccoli artigiani, i laboratori, se vai a fare la ceramica, il pane, l'olio, la spremitura, un'esperienza tra gli ulivi, ci sono queste le cose che fanno la Puglia, che fanno il territorio, ognuno ha un, io se l'immagine della Puglia l'associo vero all'olio, alla ceramica, ai taralli, se queste cose qua, allora gli abiti da sposa, queste, ancora l'artigianato, ecco, quindi Torino, se vi dico Torino, voi pensate alla Fiat, cosa pensate? eh, ecco, eh, ma perché qui c'è più, più romanticismo, però comunque, è così, quindi, sì, com'è? Eh, eh sì, eh sì, infatti facciamo questa visita carina all'associazione dei panificatori, e dotiamo tutti di un grembiule, che non vi ho portato, ma sono tutti belli, logati, medi in Torino, e si trovano a fare il pane, i grissini, le paste dure, le paste di meliga, queste cose qua, in più, è curata, questa visita è curata dal presidente dell'associazione dei panificatori, che è un panettiero, a tutti gli effetti, e che ha, cioè, è un cabaret quella visita, perché è uno molto simpatico, è presente, fa, è proprio, e deve essere questo, e in fondo, veramente, hanno un forno, un tavolo, farina, acqua, impasti, basta, poi, ecco, anche molto carino, è sempre tornare a casa, con il ricordo, che se non compri, vabbè, ecco, un omaggio, una cosa, è sempre opportuno, secondo me, darla, nel senso che, vendi la tua azienda, la tua cosa, è bene lasciare, un qualcosa, di tornare a casa anche con qualcosa che hai fatto tu, piace tantissimo, a me piace, e tornare a casa con il mio sacchettino, delle, dei taralli, delle frise, o così, è bellissimo, o con l'olio, la mia spremitura, anche se è tutto brutto, ma poi ho, 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 sì, sì, e poi, insieme agli altri due, dei punti della, della, di testimonianza, era l'ora, e si sono messi alla prova, anche a fare i tarallini, sì, all'inizio hanno avuto un po' di difficoltà, e poi, sì, adesso voglio fare le orecchiette, però, sì, no, no, e quindi, e quindi così, questa è la, la nostra brochure, quindi l'importanza della cartina, e poi, è quello che rimproverò sempre un po', al nostro ufficio comunicazione, ma anche io tengo quel che, che posso, secondo me, bisogna renderla più emozionale, più, ecco, quindi qui, se adesso sono, già riuscita a ottenere queste due fotografie, eh, però non, non riesce a capire esattamente di che cosa forse si tratta questa, questa cosa, beh, sì, informazioni servono, però ci vogliono foto di un'esperienza, di una cosa, adesso, infatti vi dico, il mio progetto per il 2014, è di aggiungere una parte, e far mettere soltanto i loghi delle aziende, perché, ditemi che se vedete Martini, vi batte il cuore, no, 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 non lo so, riuscite subito a capire di che cosa si tratta, quindi, bella visibilità alle aziende, e tante foto, no, questa è la cosa, perché, anche qui avete l'elenco, poi, di tutte le aziende, perché, eh, abbiamo messo, abbiamo messo, o, quest'anno ho voluto un po' togliere questa rigidità delle, delle filiere, no, perché vendevamo appunto queste visite, la filiera dell'automotive, la filiera dell'aerospaziale, l'agroalimentare, allora, a voi le presento così, giusto per individuare le aziende, ma credo che non sia necessario dividere tutte in, ah, staccarlo, no, ah, ah, sì, eh, mh, no, se adesso tu conti che questo è il, di un prodotto, perché poi abbiamo tutta la brochure di destinazione, tutto materiale, dove riesci a capirlo, ecco, questo è, eh, comunque, quindi questo è, è una cosa, vi faccio anche vedere il passaggio, se vi interessa, com'era l'altra brochure, che secondo me era ancora peggio, ma, eh, aspettate, ecco, questa è la nostra, un po' evoluzione, cioè, gli anni scorsi c'era, c'era questo, che credo fosse ancora, più, è migliorato, no, dai, facciamoci qualche complimento, benissimo, poi, allora, fondamentale, fondamentale, adesso, eh, sono troppo prolissa, logorroica, no, siete stravolti, però, allora, creare, come ci ha detto anche lui, giustamente tutta la parte, eh, internet, è fondamentale, eh, e quindi promuovere l'iniziativa, e, in automatico, creare una piattaforma di, di prenotazione, adesso, non è il caso dell'azienda, perché, ecco, al laboratorio si può tenere, eh, una bella agenda, e va benissimo, anche cartacea. Invece, se io devo gestire tutti i gruppi, eh, ho queste, le singole iscrizioni, di, delle persone, calcolate che, cioè, passano, sulle nostre visite, più di mille persone, se io non posso, prenotarle una a una, ecco, quindi abbiamo, e poi per agevolare la informazione, tutto, abbiamo, il, il sito internet, con questa piattaforma di, eh, di prenotazione. Poi, per lanciare l'iniziativa, delle, eh, una buona attività, di ufficio stampa, quindi bisogna informare, comunque la stampa locale, nazionale, internazionale, anche del settore, cioè dire, in Puglia, oltre al, al sole, mare, eh, entri nelle, nelle, nelle aziende, c'è, ecco, quindi ci sono modi di comunicarle, ci sono anche noi, adesso per lanciare questo prodotto, facciamo delle newsletter, quindi, eh, sì, delle, sì, delle newsletter telematiche, rivolte sia per, al trade, quindi a tutti gli operatori del, del settore, tour operator, agenzie, per informarli di questa iniziativa, alla stampa, al cliente finale, sono tutti i turisti che sono passati a Torino, e ci hanno lasciato il loro contatto, e noi regolarmente, gli mandiamo delle comunicazioni, su, su tutta l'attività di, di Torino, quello che si può fare, e anche sulle visite di impresa, e poi mandiamo delle, ecco, delle newsletter, sia settimanali, che mensili, alle strutture ricettive, che, secondo me, sono un, c'è questa, dovevo metterlo forse in rosso, nel senso che, l'albergatore, secondo me, se conosce il prodotto, lo spinge anche ai turisti, nel senso, quante volte ti chiedono, dove posso andare a mangiare, e quello alla reception, ti dice, dove andare, piuttosto, in questo caso, può essere anche, possono essere, proprio gli alberghi, i receptionist, che sono, i promotori, delle iniziative, dire, al frantoio, così si fa la visita, vada, quindi anche, anche l'azienda, secondo me, deve lavorare, con, con gli operatori locali, perché poi, come vi dicevo, vabbè, il tour operator, che organizza il gruppo, forse parte a monte, mesi, mesi prima, e mette a calendario, la visita in azienda, se no, molta gente, può anche, scoprire l'iniziativa, sul territorio, quindi, sapere che può andare, da massimo, a fare le ceramiche, e lo può dire, anche il receptionist, piuttosto che, ecco, quindi, questo è anche, un nodo, su cui, su cui lavorare, vabbè, poi la realizzazione, di card, ma è stato creato, il congresso, è fatto, fatto, ed è stato un bel, un bel evento, se, no, anche perché, questa è una cosa, pratica, che vi sto dicendo, ecco, se no, uno, c'è stata tutta una presentazione, proprio, di tutto ciò, che è sulla, vabbè, vi dicevo, che poi realizziamo, delle, delle card, promozionali, che mandiamo, anche a tutti, ecco, quindi, sempre sull'iniziativa, e poi, anche se qualcuno, mi ha detto, che a Torino, non si riesce a capire, se c'è questa iniziativa, o meno, facciamo, delle campagne, promozionali, anche in occasione, dei, dei grandi eventi, adesso, a Torino, c'è questo evento, dal 22 novembre, a, al primo dicembre, forse lo conoscete, Cioccolato, comunque, è un'iniziativa, sì, ecco, e quindi, saremo tutti, in piazza San Carlo, e c'è tutta una festa, legata al cioccolato, ci sono tutti, i, i vari produttori, di cioccolato, con i loro banchetti, che vengono, ci sono, c'è, c'è tutto, ecco, e tutto adesso, è nato, anche a, a Perugia, ecco, l'organizzazione, e di lì, comunque, in quell'occasione, la sottoscritta, ha organizzato, una campagna promozionale, non tanto, per promuovere, le visite, nelle nostre aziende, di cioccolato, dalla Caffare, il nostro, ecco, nelle aziende aderenti, ma per promuovere, l'obiettivo, è promuovere, la pratica, della visita di impresa, cioè, quindi dire al turista, o al locale, sai che a Torino, entri nell'azienda, e questo è un pochino, il mio obiettivo, anche in occasione, invece, del Salone del Libro, invece, avevo organizzato, delle visite specifiche, nella filiera dell'editoria, mi sembrava una cosa, cioè, chi viene a Torino, per il Salone del Libro, in più, aveva la possibilità, di andare di notte, alla stampa, di visitare, tallone editore, avevo fatto una cosa, delle visite ad hoc, per quel momento, quindi, ecco, questa è un po' l'occasione, di promuovere l'iniziativa, durante gli eventi, poi, altra cosa, fondamentale, e importante, sempre per giocare, un pochino, con il trade, e con gli operatori, organizzare, degli educational, che sono poi, dei tour, quindi, chiamare, adesso, non so esattamente, chi debba farlo, ma comunque, riuscire a venire in contatto, con agenzie, e tour operator, caricarle su un pullman, e portarle qua, e farli fare, il giro delle aziende, quindi, delle aziende, fargli vedere, il territorio, quello che possono fare, e quello è, e questo è fondamentale, ecco, perché loro, così, conoscono, l'offerta, che propone il territorio, sì, sì, queste sono, sono cose che stanno, sì, deve farlo, nel nostro caso, lo facciamo noi, come ente del turismo, perché siamo, l'agenzia d'accoglienza, e promozione turistica, quindi, questo rientra, sotto il cappellino, della promozione, e noi, che dobbiamo unire, la domanda, l'offerta, alla domanda, cerchiamo di, di agevolarci la vita, e quindi, di organizzare, questi educational, sempre per promuovere, invece, l'iniziativa, io credo, che guardando, vedendo il prodotto, uno dica anche, vado a vedere, come si fa, ecco, perché ho realizzato, un totem, vetrina, promozionale, che ho esposto, in luoghi, clou, soprattutto, all'ufficio, del turismo, dove comunque, uno fa anche, le prenotazioni, delle visite, compra il biglietto, e compra altri prodotti, e quindi, ho creato una, una vetrina, molto semplice, ma dove ho esposto, i prodotti, delle aziende, quindi, dal, dal pacchetto, del caffè, la vazza, alla crema, della dottoressa, Rinaldi, al, al modellino, della Fiat, un bellissimo, camion, dell'Iveco, un, già, un, due, attone enorme, della Caffarel, cioè, anche una cosa, un po' esagerata, e fumettata, un bel video, che gira, sopra, con, lo alterno, sono i video, dell'azienda, piuttosto che il nostro video, dell'iniziativa, e, con, delle tasche, con tutte queste brochure, dentro, esposto bene il calendario, e spero sempre, che quello, possa anche, attirare, nuovi, nuovi visitatori, ecco, quindi, ma si possono fare, dei totem, ma anche da mettere, all'aeroporto, ecco, ci sono tante, iniziative, ecco, per promuovere, la cosa, la comunicazione, è fondamentale, richiede tempo, e, allora, noi, io ho un finanziamento, io, parlo sempre male, Turismo Torino, per questo prodotto, riceve un finanziamento, dalla Camera di Commercio, un finanziamento, annuale, e che, e che ci conquistiamo, ogni anno, nel senso che, adesso, cioè, non è scontato, quello, il finanziamento, del prossimo anno, io cerco di far girare, noi cerchiamo di far girare, bene l'iniziativa, per poter, andare avanti, sì, sì, con questo, adesso non, posso non registrare, no, secondo me, ci sono comunque, adesso, noi riceviamo il finanziamento, della Camera di Commercio, si potrebbe anche trovare, un'altra forma, di sostanzamento, nel senso che, se ad esempio, si crea anche soltanto, le aziende si mettono insieme, sì, ma pure, l'azienda si, tutte le aziende, mettono un tot, si fa una cifra, e c'è qualcuno che gestisce tutta questa cosa, cioè, ci sono, ci sono sistemi, e bisogna, e non possiamo pretendere di fare tutto, ci vuole qualcuno che gestisca, poi, queste, queste visite, o faccia, comunque, girare tutta questa attività promozionale, nel senso che, capisco che, chi è dedito al ricamo, deve creare, non può anche fargli la brochure, e il biglietto da visita, il cartello, e tutto, mentre invece, se è a fiducia, e affida, dei collaboratori esterni, esperti in questo, si fa, si fa benissimo, ecco, e si, oppure, appunto, si può essere un consorzio di tante imprese, anzi, questo è un segnale anche forte, adesso non dico che, mettiate gli imprenditori presenti, si mettono tutti insieme, però è un segno forte, anche di fronte alla Camera di Commercio, a degli enti, a degli enti pubblici, noi, ad esempio, cito il caso di Torino, aziende che fanno parte del nostro circuito, ma sono aziende di un certo tipo, che entrano un pochino, loro sentono nell'alta gamma, e tutto, l'Aurora, Gobino, Mattioli, Gioielli, fanno Gioielli, hanno formato un consorzio, e si promuovono all'estero, tutti insieme, proprio per vendere i prodotti, cercano, e si vendono tutte e tre insieme, in fondo, le penne sono diverse dal cioccolato, il cioccolato è diverso dai gioielli, quindi ce n'è per tutti, secondo me, l'unione fa la forza, bisogna mettersi insieme, non può il singolo pensare di andare avanti da solo, e quindi così, e poi un altro punto, che secondo me è molto carino, viene sempre un po' trascurato, e l'ho messo in rosso, sono le guide turistiche, non guide turistica fisica, ma proprio le edizioni, una Lonely Planet, la Guide du Routin, ci sono, riuscire, questo è un lavoro, vabbè, più da ufficio del turismo, lo dichiaro, perché siamo in nodo, è lì, però riuscire a interfacciarsi con queste case editrici, e a riuscire a inserire la propria azienda, piuttosto che visita su queste cose, è molto utile, nel senso che, che comunque porta gente, è un lavoro, ecco, non da trascurare, quello è il contatto, secondo me, con le case editrici, con le guide turistiche, cosa che, io credo che, la Guide du Routin sulla Puglia, sul sud di Italia, ci sia, comunque la Lonely Planet, sono tutte, e sono, o Colturing, ecco, ci sono tante, tante cose, così, allora, posso bere? Alla fine, poi, poi crolla il mondo, poi basta, poi andiamo avanti domani, sì, abbiamo comunque anche domani, diciamo, per riascuno, diciamo, sì, sì, ma, sì, intanto questo andiamo, com'è? Sì, normalmente, normalmente, sì, stradale, no? Sì, sì, poi, ritorniamo qui, sì, ritorniamo qui, per andare, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, dopo la villa, vado avanti, mi dia, allora, la prenotazione, io parlo del mio caso specifico, come può avvenire la prenotazione, cioè, se uno vuole fare, fare una visita di questo genere, in questo caso, si presenta, o all'ufficio del turismo di persona, persona personalmente, e paga, il 10 euro, e poi può partire per la visita, quattro giorni dopo, il giorno stesso, dipende, oppure, c'è tutta questa piattaforma di prenotazione, ben articolata, e quindi, può sia acquistare, prenotare, acquistare online, che ormai è il modo più, più comune, ecco, vi dico anche che una volta avevamo un sistema soltanto di prenotazione online, e non c'era l'acquisto del biglietto, quindi quello che è successo, potete immaginare, la gente si prenotava, e poi non veniva alla visita, quindi, perché non, se non deve corrispondere, era appunto una cifra, dicevano c'era un problema, così non venivano e non perdevano niente, ecco, e quindi questo è stato, poi ci siamo un attimo, era un po' un sistema tecnologico che non funzionava, ecco, poi siamo riusciti a inserire anche, così, siamo riusciti a inserire tutta la voce anche della commercializzazione, dell'acquisto online, quindi questo ha fatto sì che le visite anche andassero meglio. Io quello che chiedo sempre, durante le prenotazioni, al momento della prenotazione, ma quindi che sia che sia l'individuale che il gruppo, è questo benedetto elenco dei partecipanti, perché, come vi dicevo, l'azienda me lo chiede, poi mi può servire anche a fine statistici, quindi, semplicemente lavoro con una tabella Excel, lo dico, dove ci sono le varie voci, il nome, il cognome, il numero della carta di identità, e tutti quei dati invece che servono sia da inviare all'azienda, sia quei dati interessanti che possono essere utili all'accompagnatore e alla guida. Dopo, se l'acquisto avviene sia online che di persona, si rilascia normalmente una ricevuta, un biglietto e un voucher, oppure un voucher, e trovo, adesso questo è uno spunto, io non lo faccio, però comunque, anche questo biglietto che uno rilascia, può essere un veicolo di promozione, ecco, quindi il cross-selling anche tra altri prodotti e tutto, è sempre utile, adesso anche per aziende, per aiutarsi tutti insieme, io penso, vi ho portato l'esempio dell'Alohacker, questo era il biglietto che mi hanno lasciato, e presentando questo biglietto nel parco dei diventi di menti, avevi l'omaggio, quindi se dal frantoio rilasciate un biglietto e poi vanno dal signore che fa, ecco, potrebbe essere anche un modo per aiutarvi tutti insieme, adesso dico una banalità, ma sono spunti, oppure semplicemente una promozione di tutto quello che puoi fare sul territorio, di altre iniziative, del ristorante che così ti finanzia la carta, che ne so, bisogna trovare degli sponsor, delle cose, il mondo secondo me gira in questo modo, ecco, e lo dico sempre, mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, il mio direttore mi diceva, Francesca, il turismo è una goccia, basta farla cadere sul territorio che poi inonda tutto, quindi se noi riusciamo a portare i turisti qui e poi sono sul territorio, ce n'è per tutti, entrano nelle aziende, entrano nel ristorante, fanno lavorare la guida, lo sapete, ecco, ma a parte che qui il turismo gira, però comunque, quindi arriva anche sulla, questa goccia arriva anche sulla visita, l'impresa e le aziende, ecco, questo è un po' l'invito. Poi, vabbè, qui vi ho, so che i collegamenti online erano un po' difficili, no, non parte, l'ho fotografato, e comunque è la nostra piattaforma di prenotazione, quindi uno va su www.turismotorino.org slash shop, oppure direttamente su Made in Torino, che è questo, un altro percorso, e può acquistare la visita, quindi se il passaggio successivo, trova il calendario, scegli un po' l'azienda dove vuole andare, trova il calendario, dove sono indicate le, in verde, vedete i giorni di effettuazione della visita, clicca sopra, compila appunto quante persone sono, è proprio una piattaforma di prenotazione, vede che il costo è di 10 euro, adesso questo è vecchio, quindi la riduzione per i bambini era di 8 euro, va avanti, e poi hai il riassunto di che cosa hai nel cestino, e volendo puoi poi acquistare altre visite, questa è un po' la cosa, quindi comunque lo vedete poi, mi fermo? Sì, 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 ci troviamo orientativamente, quante persone, diciamo, ci raggiungono a... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti